E' stata un successo la notte dello shopping di Natale nei centri commerciali Mongolfiera di Foggia, Andrea, Barletta, Molfetta, Bari Santa Caterina, Bariglia, Pigia, Taranto e Lecce. Ieri apertura straordinaria dalle 10 alle 24, dedicata allo shopping e preziosita da colori, suoni, sapori, spettacoli, animazione e divertimento. Un'indimenticabile notte bianca dove ritrovarsi e far festa tutti insieme, una full immersion fino a mezzanotte per offrire a tutti l'opportunità di cercare fra i numerosi negozi delle gallerie commerciali i regali più originali. Vetrine vestite a festa, sfavillanti e invitanti, con un'ampia e variegata proposta di idee regalo, dalle calzature agli accessori, dall'abbigliamento ai profumi, e poi giocattoli, libri, ceramiche, articoli per la casa, cesti gastronomici, ma anche viaggi e abbigliamento intimo. Regali per tutti i gusti e per tutte le tasche. E per allegrare i clienti di tutte le età, i centri commerciali Mongolfiera hanno offerto spettacoli di artisti e giocolieri. C'era persino Babbo Natale con gli Elfi e le Renne. In serata, poi, grande protagonista è stata la Tombola. A tutti i clienti dei centri commerciali Mongolfiera, dal 15 al 22 dicembre scorsi, a fronte di un acquisto minimo di 20 euro, è stata consegnata una cartella per partecipare alle tre sessioni di Tombola delle 21, delle 22 e delle 23 di ieri. Ai fortunati vincitori di Ambo, Terno, Quaterna, Cinquina e Tombola sono andati carnet di buoni acquisto da 50 a 500 euro, per un monte premi complessivo di 17.200 euro.